Un dato è certo, siamo di fronte al fallimento della gestione dei rifiuti in Sicilia. Basta guardarsi attorno, troppe appazzature in giro e troppe le discariche abusive, a Catania se ne contano 121. L'emergenza diventerà grave con la graduale chiusura della discarica di Lentini, prevista per fine aprile. Innumerevoli punti interrogativi perché sono 150 i comuni che conferiscono nel centro della Sicula Trasporti. Sicuramente le diverse discariche dell'isola, quasi tutte private, non sono attrezzate per ricevere gli ingenti rifiuti dei capoluoghi di città come Catania, Messina o Palermo. Saranno dunque i prefetti a dover affrontare questa grave emergenza. Come alternativa a Lentini nasce l'idea di trasportare i rifiuti fuori dall'isola, vecchia idea, con destinazione nord Italia o addirittura l'estero. Bisogna però fare i conti con gli imponenti costi di trasporto, che verosimilmente cadranno sulle spalle dei cittadini, con l'aumento della Tari, tassa su rifiuti, e della Tarsu, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'unica valida opzione sarebbe l'installazione dei termovalorizzatori o di strutture adeguate al compostaggio, ma solo sulla carta, così come per gli inceneritori, attraverso i quali si genera energia elettrica a partire dalla combustione dei rifiuti, capaci anche di ridurre visibilmente il volume dei rifiuti conferiti nelle discariche. Sono stati lasciati in baglia degli eventi anche sindaci dei circa 150 comuni siciliani, che non potranno più conferire a Lentini. Impreparati sul da farsi, fanno appello alla regione senza però ricevere risposte. Chissà se in merito interverranno le SRR, società di capitale, che dovrebbero vigilare sull'efficienza dei servizi. Abbiamo i nostri dubbi, perché restano carrozzoni politicizzati che sembrano rallentare il tutto. Forse interverrà il nuovo assessore all'energia, Daniela Baglieri, che da qualche settimana ha preso il posto di Piero Bonn, ma fino ad oggi nessun segnale tangibile è arrivato dalla regione.